Amore. Che è molto sentita specialmente la popolazione di Bobi perché Don Mario è conosciutissimo in quanto ha sempre coadjuvato il vicario Don Mario, scusate Don Mario Poggio che è stato coadjuvato Don Aldo Maggi e quindi è molto particolare perché la gente sente molto questa cosa e abbiamo già sentito che la gente è contenta, è molto contenta ed è anche un po' ansiosa di vedere l'operato di Don Mario. Noi siamo qua, per l'occasione è presente anche il coro della cattedrale diretto da Don Aldo Maggi e questa occasione è molto sentita, avremo appunto queste riprese che vedremo durante la messa. La messa verrà celebrata qua a Bobi, sono le 15.30 quindi fra pochi istanti comincerà la funzione. La messa verrà La messa verrà Per realizzare questa stessa finalità Quindi Sierogine oggi siamo chiamati a sviluppare un buon percorso in trefus La stessa finalità Per realizzare questa stessa finalità